Lei dice una cosa che ricorda un Sanremo quando, proprio il suo Sanremo, quando molti non sono venuti per una sorta di pregiudizi, molti cantanti nei suoi confronti, e uno disse, sa troppo di sugo, lei non ha mai svelato il nome, vogliamo, diciamo, cogliere l'occasione per questo sugo che ha detto. Va bene, glielo dirò, glielo dirò. Allora, a me l'hanno riferito, chiaramente, non è che lui è venuto lì e mi ha detto... Sei di sugo. Sei di sugo, no. No. Per cui non posso dire, allora, premetto, se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse.